Dedicare il luogo simbolo del calcio Ipparino al compianto Giambattista Cosimo scomparso qualche giorno fa, intitolare lo stadio comunale a colui che negli anni 60 fu il fondatore della Libertas Federici Vittoria e poi divenuta Club Calcio Vittoria, a chiederlo alcuni dirigenti del Vittoria Calcio come Claudio Lamattina, Calogero Termini, gli eredi di Domenico Vaccarello, Giuseppe Ferrigno, Mario Novelliero e Angelo Dezio. Questi hanno preso carta e penna e hanno scritto al sindaco Giuseppe Nicosia per chiedere di voler prendere in considerazione l'idea di intitolare lo stadio comunale a Giambattista Cosimo scomparso domenica 3 novembre. Cosimo si legge nella missiva nel 1964 fu fondatore della Libertas Federici Vittoria, poi denominata Club Calcio Vittoria. Fu il precursore delle stagioni calcistiche biancorosse che negli anni hanno vissuto gioie e dolori e che perdurano ancora oggi. La sua figura, si legge ancora, incarna al meglio la passione, l'impegno e i sacrifici anche economici che ciascuno di noi ha profuso per il sodalizio vittoriese, perciò rappresenta la sintesi delle nostre esperienze. Per questo motivo ritengo un opportuno ricordare la figura di Cosimo intitolandogli quello stadio che per lungo tempo è stata la sua seconda casa.